Un felice incontro tra arte e natura. La Svizzera, che con il nostro paese condivide importanti elementi storici e paesaggistici, annovera città con monumenti perfettamente conservati e laghi e montagne da cartolina. Aristide Malnati, con la reporter Virginia Regnero, presenta in due imperdibili speciali televisivi la ricchezza culturale della Confederazione elvetica e le magnifiche gemme della sua natura immacolata.